Io a questo punto posso solo essere brevissima, perché Guido già ci minaccia di tenerci qua fino alle 9 e confesso di essere io stessa molto interessata a vedere quello che Guido ci proporrà. La mia presenza qui è giustificata solo dal fatto che a quanto pare nel 1979 io ho fatto la prima intervista che Guido Rari avesse mai fatto in vita sua. Quindi grazie a questo vecchio gallone che ho all'occhiello sono stata invitata ad essere qua. Di Guido Rari, autore, fotografo di musica, fotografo di ritratto più in generale, fotografo tucur senza nessun'altra aggettivazione credo che parlerà lui stesso perché ha preparato una proiezione che io ho visto in modo molto sintetico e che ho veramente grande voglia di vedere. L'unica considerazione che mi preme fare a priori è che il lavoro di Guido per me è sempre stato sorprendente. Io sono di professione, sono foto editor, ossia sono la persona che all'interno delle redazioni dei giornali si occupa della visualizzazione, si occupa dell'immagine, si occupa di cercare le immagini ma si occupa, si occupava perché lo faccio ancora oggi però siamo ormai in pochi a farlo, si occupa di far realizzare le immagini. Ogni volta per molti anni che c'era di mezzo qualche cosa di musicale e successivamente in un secondo periodo, anche non solo di musicale, il ricorso a Guido Arari era obbligatorio. E devo dire che la cosa che a me piaceva moltissimo nella collaborazione con Guido Arari era che noi partivamo da un progetto comune che era fotografare, che ne so, Fabrizio De Andrè e dicevamo lui sta lì in questa casa, fa questo, fa quest'altro, facciamo vedere la Sardegna, facciamo vedere questo. Poi mi arrivavano delle foto di lui sul letto circondato di fogli che non c'entrava niente con tutto quello che noi ci aspettavamo e che era dieci volte più bello di quello che noi ci aspettavamo. Quindi questo effetto sorpresa e questo scardinamento di aspettative era un po' la caratteristica di Guido Arari. Addirittura in una collaborazione che mi aveva avuto successivamente in un giornale sportivo nel quale io ho lavorato per 12 anni che è Sport Week inizialmente lui riusciva a far fare persino ai cestisti, a qualsiasi tipo di personaggio del mondo dello sport riusciva a trattarli e fargli fare quelle cose imprevedibili che hanno reso i primi anni di Sport Week un giornale davvero sorprendente. Io mi taccio perché è davvero molto bella questa proiezione che ha presentato Guido e abbiamo tutti molto voglia di vederla. Lui stesso suggeriva, come ha detto Francesca Fabiani, che se c'è qualche cosa che nella sua narrazione avete voglia di chiedere subito forse conviene farlo subito perché a Guido piacerebbe instaurare una sorta di ping pong, di dialogo con il pubblico, con me, con se stesso. Insomma, comunque, Guido Arari. Allora, grazie. Funziona? Sì. Allora, il guaio dell'era di internet è che magari molti di voi hanno già visto il filmato della lezione che abbiamo ottenuto in triennale l'anno scorso, spero di no, spero non tutti, quindi spero che quello che racconteremo giunga come una novità. Dunque, io ho strutturato questa proiezione pensando a un racconto del mio percorso, perché insomma quello che mi chiedono, soprattutto i più giovani, è ma come si fa? Ma in verità devo dire che come si faceva, perché non si può più fare oggi come abbiamo fatto noi 30-40 anni fa. Quindi è un po' un'avventura da riscoprire in questo momento così digitale. Questo incontro si poteva intitolare, adesso qui ho scritto il ritratto come incontro, perché è quello che a me interessa. La molla che mi ha fatto adottare la fotografia come linguaggio è stata proprio quella di trovare una specie di passepartout per arrivare all'altro. Inizialmente al personaggio, al musicista che mi aveva ispirato, ma poi anche a personaggi di altri campi. Quindi non vivere la passione per la musica inizialmente, come una passione passiva, insomma, da fan, ma in verità sentendomi un po' in qualche modo parte di una famiglia volevo conoscerne i membri. E quindi questa proiezione si potrebbe anche chiamare vedere la musica, ascoltare le immagini, insomma, con un filo di retorica. Io comincerei dagli inizi. Vi mostrerò anche delle foto di altri fotografi, perché all'epoca non c'era internet, non c'erano in Italia degli istituti di fotografia, bisognava andare a New York o a Londra, insomma, per avere dei confronti con i grandi maestri. Ci si doveva un po' arrangiare con i libri, con i giornali, con rarissimi video. Quindi mi sono fatto da me, insomma, come forse direbbe Gaber, in un eccesso di citazionismo. Ma insomma, la musica era questa agli inizi. Non sono io, ma insomma, si consumava con questi apparecchi e con questi oggetti che erano i dischi di vinile. I luoghi dove si poteva, come dire, ascoltare, scoprire le novità. Erano questi negozi dove c'erano signorine avvenenti di cui a quell'età, insomma, agli albori dell'adolescenza ci si poteva anche innamorare. Quindi si tornava per ascoltare, raramente per acquistare. Poi c'era il jukebox, ovviamente, che era un momento, rappresentava anche un momento di conoscenza, di aggregazione, di contatto. E negli anni Sessanta si poteva anche consumare la musica in questo modo, portarsela in giro e quindi farne veramente la colonna sonora della propria vita. Diciamo, la folgorazione per me è stata quando ho ascoltato i primi dischi di rock and roll, parlo della fine degli anni Cinquanta, quindi Elvis, Little Richard, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, ma in verità quando arrivarono i Beatles e i gruppi inglesi all'inizio degli anni Sessanta ero già ben cotto e pronto a recepire questi stimoli. Avevo 12 anni quando ho visto i Beatles a Milano, al Vigorelli, è stato il mio primo concerto, è stata una folgorazione totale, però non avevo ancora pensato alla fotografia, non avevo trovato questa equazione, insomma, tra musica e fotografia. Questo sono io quell'anno, quell'estate, mi potete riconoscere facilmente nel mucchio. E la fotografia arrivava anche attraverso delle foto dei propri idoli che maneggiavano delle macchine fotografiche, quindi c'era questo contatto. Questa è la prima macchina che ho usato, una Zai Sikon, era la macchina di mio padre, che non era assolutamente fotografo, ma maneggiava questa macchina con la disinvoltura e il piacere di un personaggio che ho molto apprezzato nel film di Edgar Reitz, Heimat, soprattutto nel primo ciclo, che era uno zio, sempre presente nei momenti topici, insomma, della vita di questa famiglia tedesca. E tant'è vero che era sempre presente con la macchina fotografica e le foto che scattava diventavano poi il racconto, il riassunto del racconto di puntata in puntata. Quindi mio padre aveva questo gusto di cogliere l'attimo con una macchina veramente giurassica. Questa è un'altra macchinetta da Canon, dal medio formato, lo dico per chi è fotografo, o aspirante, o sedicente tale, qui qualche nota tecnica. Questa è una macchina che, contrariamente all'altra, che scattava in medio formato, questa addirittura dimezzava il formato 35 mm, quindi qualità scarsissima. Poi ovviamente, nel 67 c'è stato un film che ha probabilmente colpito l'immaginario di molti ragazzi che erano appassionati di fotografia, è stato Blow Up, con un personaggio ritagliato sul modello di David Bailey. Uno dei grandi fotografi inglesi di celebrities e di moda. E quindi il formato più grande. E poi, insomma, anche il miraggio di una fotografia che diventava appropriazione dell'oggetto del proprio affetto. E questo mi fa pensare ad una frase di Art Kane, un grande fotografo americano che mi ha molto segnato, la frase, ma anche il fotografo, che la fotografia è dal vivo. Lui ha fotografato pochissimi musicisti, ma ogni foto da lui scattata è diventata iconica, da quella dei jazzisti a Harlem nel 1958, agli U avvolti nella bandiera britannica. E lui diceva, non mi interessa fotografare gli artisti dal vivo, perché è quello un tipo di foto che può fare chiunque. Mi interessa invece averli, tutti per me, possederli, in una dimensione in cui posso veramente cogliere la loro essenza e personalità. In quegli anni Sessanta, questi erano i miei diari del ginnasio, praticamente già impaginavo i miei libri, insomma. Comincia forse qui la mia passione per la riorganizzazione, insomma, dello sguardo. E ovviamente l'educazione visiva passava dalle copertine dei dischi, dischi ovviamente di vinile, grandi, LP, e su cui si indugiava per ore ascoltando la musica e quindi si penetrava tutto, la grafica, la foto, le note, sul retro, i testi delle canzoni. Questo immaginario, in quegli anni, che veniva elaborato in maniera molto casuale, in verità poi ha segnato la storia della musica. Infatti la copertina di Elvis viene poi citata nella grafica dai Clash, 30 anni dopo. Ma quello che poi ho scoperto è che i fotografi che scattavano queste foto non erano dei professionisti più delle volte, erano degli amici degli artisti che si improvvisavano fotografi per passione, per surrichiesta dello stesso artista. A volte, casi anche curiosi, per esempio la copertina dei Rolling Stones in basso a sinistra è stata scattata da un fotografo, Gerard Mankovic, più giovane degli stessi Stones. Assoldato perché essendo più giovane sicuramente era più addentro alle tendenze del momento. Poi l'immagine ovviamente si complica, diciamo, passa da un ritratto puramente descrittivo ad un'interpretazione più concettuale. Si usano tecniche anche diverse. in quegli anni l'immagine della musica che mi colpiva era questa, era quella di ritratti essenziali che poi sono diventate anche delle icone, forse proprio per la loro essenzialità. Già i personaggi erano molto particolari. Anche in questo caso, per esempio, la foto di Hendrix è tratta dal primo servizio in studio di Hendrix ancora non esploso a livello planetario, aveva appena fatto un 45 giri e il fotografo gli ha dedicato due o tre rulli in fondo chi era Jimi Hendrix e è diventato una leggenda dopo. Però, al di là dei ritrati di studio, la dimensione dal vivo, smettendo Art Kane, era importante. Per me quando ho cominciato a seguire i concerti all'epoca non c'erano limitazioni per i fotografi solo la prima canzone o le prime due o tre canzoni ma si poteva fotografare tutto il concerto, il palco diventava una palestra, diventava il proprio studio, si cercava di seguire, assimilare quella che chiamo la melodia cinetica del soggetto, riuscire a capire la gestualità, il linguaggio del corpo che poi si sarebbe potuto approfondire magari in una dimensione più intima che ancora non immaginavo di poter esplorare e queste sono foto appunto storiche del rock che esemplificano questo. Ma poi una cosa interessante è che c'è qualche fotografo che dalla dimensione frontale passa ad un'altra angolazione, comincia a inserire anche il pubblico, il pubblico diventa protagonista del concerto, l'artista che prima avete visto quasi schivare i gesti di affetto dei fan invece ci si butta direttamente. Il concerto diventa poi qualcosa di più come dire un momento di si diceva tanto tempo fa di aggregazione, quasi la musica diventa un pretesto per trovare una dimensione collettiva, un'epoca di grandi ideali e slanci e quello che colpisce in queste foto che sono un po' più recenti è la vicinanza del fotografo come nei ritratti che avete visto e vedrete la cosa importante non è la foto scattata a distanza con un teleobiettivo ma è la foto grande angolata a mezzo metro dall'artista quindi un contatto totale. Ci sono delle foto che glorificano come avete visto l'artista ma altre che raccontano delle storie anche in maniera sottile per esempio questa una foto del 64 credo del 65 Dylan e la Bytes racconta in un solo scatto un passaggio di consegne da una generazione non posso dire da una generazione all'altra perché qui siamo all'interno della stessa generazione ma da un momento della musica ad un altro e questo è Dylan che si esibisce durante un concerto di Joan Bytes per 3-4 brani e comincia a scrivere la sua leggenda la fotografia di musica comincia a mostrare anche qualcosa di più intimo di non accessibile da parte del pubblico in un'epoca in cui non ci sono ancora manager agenti stampa o guardi del corpo quando non c'è ancora una gestione dell'immagine che mira a vendere un prodotto si scattano delle immagini si lasciano scattare delle immagini stiamo parlando di leggende della musica che sono state fotografate tantissimo ancora oggi emergono scatti inediti che si lasciano cogliere in una dimensione che oggi forse non venderebbe o non aiuterebbe a vendere o a creare un mito invece Janis Joplin per esempio invitava Jim Marshall a fotografarla anche nei momenti così di deriva psicologica oppure Art Kane guardate uno scatto Janis Joplin aveva 26 25 26 anni e già era la grande madre del blues con un viso senza tempo e poi c'è lo sguardo totale definitivo a Enel Ibovitz a un certo punto della sua carriera coglie veramente l'essenza del rapporto tra John Lennon e Yoko Ono e si comincia questa è la foto che mi ha fatto capire che potevo diventare un fotografo di musica o un fotografo questa è la prima copertina di Rolling Stone che all'epoca era poco più di una fanzine scattata da Enel Ibovitz il primo commissionato si direbbe che le fu dato una foto in luce naturale 35 mm a un John Lennon che si era appena disfatto del mito ingombrante dei Beatles aveva appena pubblicato il suo primo disco questa diciamo connessione quasi telepatica fra il fotografo e il soggetto è quello che mi ha fatto immaginare un possibile percorso e dicevamo prima della vicinanza ecco gli scatti di pen con un obiettivo che deforma quasi rende caricaturale il ritratto non ha nessun tipo di rispetto del soggetto cerca di strappargli qualcosa di cui il soggetto probabilmente non è consapevole Arnold Newman un grandissimo fotografo che ha usato il grandangolo spintissimo per dei ritratti quando mi ricordo che forse Giovanna no ma qualche altro fotoeditor si lamentava del mio uso e abuso del grandangolo credo che ci fosse una storia alle spalle molto importante Giuseppe Pino per me è stato un grandissimo riferimento un fotografo che ha fatto forse più immagine che fotografia con dei tagli sempre particolari con una lettura molto microscopica quasi dei suoi soggetti per lo più jazzisti Angelo Novi è stato un fotografo di cinema grandissimo che ha avuto una particolarità rispetto ad altri del suo campo Angelo Novi non fotografava almeno non sempre come i fotografi di cinema cioè al fine di una scena si mettono in asse con la cinepresa e fissano la stessa inquadratura del regista no Angelo Novi creava il suo film scattava ben altre foto e questa è veramente pazzesca Halsman un altro fotografo che mi ha sempre appassionato per il rapporto che riusciva a instaurare con i suoi soggetti la sua collaborazione forse più famosa è quella con Salvador Dalì in questo tentativo di creare con la macchina fotografica la dinamica dei suoi quadri e la foto di destra è una foto particolare perché Halsman ebbe l'idea di proiettare su una vasca in camera oscura una vasca piena di latte un ritratto di Dalì e poi di far cadere nella vasca far cadere dalla moglie dei sassetti in modo da far scoppiare il latte quando Dalì vide questa foto disse no 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 questa non la usiamo assolutamente questa è più Dalì di Dalì ecco questa è stata una bella indicazione e ancora Halsman in questa foto di Winston Churchill il grande statista inglese alla fine della sua carriera c'è un aneddoto che per me fu illuminante Halsman si pose subito frontalmente rispetto a Churchill e Churchill quando notò questo si girò li voltò alle spalle Halsman si spostò si riposizionò frontalmente per mettere a fuoco e Churchill si girò di nuovo Halsman in quel momento capì che la foto era questa per cogliere la fine di una carriera questo era lo scatto quindi ho capito che bisognava come diceva Giovanna prima bisognava bisognava bisogna anzi essere pronti a sgombrare il campo e lasciarsi sorprendere dalla dalla chimica che si crea col vostro soggetto in quel particolare momento che non si creerà mai nello stesso modo in un altro e nel libro che ancora all'inizio mi ha mi ha fatto capire che insomma il valore del cosetto Kiss Principle cioè keep it simple and stupid cioè la foto migliore è quella più semplice non c'è bisogno di creare grandi costruzioni Cristo è l'artista che impacchetta tolli e monumenti e quindi questa era la sua lettura assolutamente istantanea a destra è Fleetwood Mac una band che aveva in quel momento una serie di storie incrociate al suo interno tra i suoi membri ed è stata accolta così per una copertina di Rolling Stone e questo ancora è Art Kane con la foto degli Who che abbiamo citato prima e poi ci sono fotografi che mi hanno fatto capire che si poteva anche non trattare l'artista il personaggio stiamo sempre parlando di un momento in cui ero attento alla musica più che altro però cercare non trattarlo come una star ma cercare di cogliere una vulnerabilità una tensione qualcosa diciamo non necessariamente cosmetico e questo è Bert Glynn un ritratto di Sammy Davis Bruce Davidson straordinario uno dei fotografi di Magnum è riuscito a cogliere non so se consapevolmente o meno in questo scatto peraltro molto crudo perché praticamente non è a fuoco probabilmente apertura tutta apertura è riuscito a cogliere la tensione di un triangolo fra Yves Montand e Marilyn Monroe e Simone Signoret e poi il centro dell'attenzione si sposta ed entra l'azione qui Martin Luther King credo che sia ancora Davidson quasi schiacciato da questa folla Mulas un ritratto di Pasolini probabilmente su un set dove Pasolini è in secondo piano centrale ma circondato da altre figure e addirittura Kratosville che è un fotografo di guerra che addirittura decostruisce il ritratto e rende totalmente irriconoscibile il personaggio portandolo dentro un suo modo di sentire una sua visione delle cose e Herb Ritz in questi due ritratti mi riporta all'essenzialità del viso del taglio stretto quindi tolte tutte le possibili distrazioni sovrastrutture con gesti semplicissimi che insinuano non più che illustrare o addirittura un ritratto di spalle di Tyson che è perfettamente riconoscibile bene dicevamo prima dei musicisti vissuti come una famiglia e questo è proprio quello che è successo insomma adesso qui ci sono alcune foto con alcuni musicisti che ho incrociato credo che dalle foto si capisca il tipo di trasporto che si è creato con alcuni ci sono state anche lunghe frequentazioni non posso dire proprie amicizie però qualcuno di voi si chiederà come era Guidarare quando ha cominciato eccolo qua cioè qui stiamo parlando di cose serie più o meno ma in verità si ha insomma c'è un po' di cialtroneria questo era 74 io veramente un pischello e cominciavo con Frank Zapp e quindi diciamo la dimensione dal vivo se avete domande sparate io non perdo il filo Giovanna se vuoi dire qualcosa sei benvenuta quindi dicevamo il palco come uno studio quindi la possibilità attraverso l'intera performance di cogliere non è una jam non sono insieme sulla scena anche se sembra ecco ancora la vicinanza di cui parlavamo la possibilità di stare sul palco e di avere uno sguardo diverso di cogliere dei dettagli non visibili dalla platea e questo cominciamo con gli aneddoti questo è stato uno dei dei momenti più alti del mio percorso è stato quando fui chiamato come fotografo ufficiale a seguire una tournée di Bob Dylan nell'84 e alcune di queste foto poi finirono sulla copertina di un disco peraltro abbastanza traspurabile il disco anche la copertina nel senso che Dylan vuole tutti gli scatti compresi gli scarti non gli diedi ovviamente tutto però insomma dovete consegnare tutto e purtroppo quando mi arrivò lo stampone dall'America mi venne un colpo perché le foto erano assolutamente terribili una copertina più anonima non si sarebbe potuta immaginare però l'art director mi disse guarda è venuto qua Dylan aveva in una mano il master del disco nell'altra le tue foto mi ha detto fate quello che volete e questo è quello che è successo però siccome è interessante sapere come si realizzano certe foto in questa occasione eravamo all'arena di Verona io sto facendo le foto i fotografi erano limitati ai primi tre pezzi io facevo tutto il concerto dal palco e da sotto a un certo punto Bill Graham il grande impresario del rock gesticolò piuttosto così in maniera piuttosto violenta dicendomi di tornare sul palco subito e temete che Dylan fosse disturbato dalla mia presenza e invece arrivato sul palco mi disse guarda tutta l'arena illuminata dai cerini mi dice fai questa foto perché è una foto fantastica dico va bene un braccio alla macchina mi dice no no vai sulla batteria e fagliela proprio da dietro benissimo io al buio vedete la scena era questa mi sono infilato in mezzo ai tamburi e ho pensato cosa sarebbe successo se ne avessi urtato uno queste sono altre foto sempre di quelle tournée questa è la copertina non ha fatto storia e questa è invece una foto di qualche anno prima in cui ingegnandovi eravamo a Parigi c'era un concerto della turna del 78 credo e negli uffici della della casa discografica avevo trovato questo cartonato a grandezza naturale l'ho chiesto in prestito per un'oretta e mi sono inventato qualche scatto pensando va bene cosa farei io se avessi mezz'ora in questo momento qui con Bob Dylan e questa è una piccola trovata e poi dopo il concerto dopo la dimensione del concerto arriva quella della sala di incisione quindi la possibilità di assistere al momento creativo in questo caso non sono di qui invece con Riccardo Muti in tutt'altra situazione ma sempre di prova e qui siamo un po' sul filo del ritratto anche se le etichette hanno poco senso e il primo vero reportage se così si può dire che ho potuto realizzare è stato quello con Fabrizio De Andrè nel 79 in occasione della tournecola PFM c'era un disco nell'aria un disco dal vivo e io mi ero candidato per la copertina senza neanche conoscere Fabrizio conoscevo PFM e la casa discografica accettò l'idea di una parte a colori dedicata al concerto e una parte in bianconero invece per un libretto interno quindi foto di backstage di viaggio eccetera e la realtà fu un pochino diversa nel senso che scopri che Fabrizio non viaggiava con PFM non erano i Rolling Stones non era Jackson Brown con gli Eagles era una tournée all'italiana in un momento tesissimo era il 78 cominciò nel 78 ma in verità decollò nel 79 quindi era appena stato ammazzato Moro c'erano contestazioni in tutti i palasport e Fabrizio navigava così tra i fumi dell'alcol in questa dimensione che nessun artista internazionale ha mai capito bene come mai ci potessero essere dei casini del genere a dei concerti e soprattutto si trovava catapultato sulla scena lui che era stato timido e poco disponibile a fare concerti per tanti anni si trovava catapultato sul palco con una grandissima rock band e un pubblico in delirio quindi e diventò un animale da palcoscenico si scoprì perlomeno tale e per la copertina usavamo quella foto in cui lui non c'è e fu anche un precedente credo mi piaceva molto questa questa come dire questa fotografia dell'assenza ecco se così si può chiamare infatti lui non c'era quasi mai spariva quando si doveva provare e questo è quello che potevo catturare il backstage durante le prove e nient'altro perché poi Fabrizio spariva nella notte e si ripresentava soltanto alle 5 del pomeriggio dopo la fortuna ha voluto che girando come un pazzo tra palco e camerini mi imbattei in questa situazione Fabrizio Fabricitante si era messo a dormire contro un termosifone era inverno e la foto non è assolutamente costruita lui l'apprezzò tantissimo forse perché per la prima volta si trovò ritratto un po' come certi personaggi delle sue canzoni insomma non il ragazzo della della Genova Bene ma un uomo qualunque e poi come molti sanno Chiosò parafrasando un verso del pescatore col culo esposto al radiatore si era assopito il cantautore poi negli anni grazie a quel reportage si maturò un'amicizia una frequentazione assidua mi chiamava per ogni servizio fotografico con cui doveva promuovere i suoi dischi ci sono anche delle foto che non ho fatto perché ci sono state delle occasioni in cui ho capito che col soggetto la macchina fotografica era d'impaccio era un ostacolo al rapporto per cui è capitato diverse volte anche con dei servizi commissionati non so se con Giovanna di capire ok no guarda facciamo una cosa andiamo al ristorante ci mangiamo una pasta e ci rivediamo fra due settimane vediamo di capire qual è l'idea giusta per il servizio e con Fabrizio è successo un paio di occasioni una notte in Sardegna lo sentivo stossire mi sono affacciato alla sua camera per capire se avesse bisogno di qualcosa e ho visto ho avuto questa visione di lui in caffetano in una penombra in mezzo a due letti completamente pieni di libri e ho pensato questa è una foto fantastica nessuno l'ha visto così ma non ho avuto il coraggio di fotografarla e anni dopo questa cosa a me è rimasta gli ho chiesto a Milano di fare quella foto e la camera era diversa non c'era il caffettano c'erano soltanto i libri e questa è l'immagine poi altri momenti un po' più intimi ricostruiti ma veri insomma nel senso che era proprio Dori che gli tagliava i capelli e queste sono alcune delle copertine di dischi fatte negli anni vari artisti questo giusto per capire dove finiscono poi le vostre foto e si diceva il palcoscenico come studio ecco per esempio con Gaber con cui c'era una simpatia enorme accettava sempre di farsi volentieri di farsi fotografare da me mi faceva mettere una seggiola in mezzo al corridoio in teatro e potevo fotografare tutto tutto lo spettacolo e io mi portavo una valigetta piena di rullini e mi tragliavo come se stessi facendo i fotogrammi di un video perché si parlava di melodia cinetica e Gaber era veramente un personaggio straordinario con una gestualità incredibile e un giorno gli chiesi di fare un ritratto in studio e gli chiesi in particolare di rifare quell'urlo che cacciava alla fine dei suoi brani era un urlo liberatorio per lui ma anche un modo di scuotere il pubblico dall'apatia di reagire ai testi che aveva inflitto perché a volte erano testi veramente molto durissimi e quindi e poi anche volevo che quest'urlo fosse visibile da vicino come abbiamo detto prima e non da lontano e questa è la foto che abbiamo fatto nel mio studio a Milano poi qui si è Newman la ricerca del taglio del taglio ideale quello che nessuna macchina potrebbe realizzare è qualcosa che mi ha molto appassionato e l'ho applicata a questa lezione quando ho fotografato David Crosby musicista un altro dei miei miti in un momento molto particolare per lui dopo anni di droga deriva autodistruzione era lentamente rinato e aveva realizzato un disco il secondo a distanza di moltissimi anni dal primo ed era venuto in Italia in promozione e io ho quest'occasione unica di intervistarlo e anche di fotografarlo e sapevo che avevo una sola foto da fargli questa perché racchiudeva la sua rinascita in qualche modo per me questa foto poi gliel'ho mandata e mi ha scritto dicendo che questa è una foto fantastica anche Graham Nash che il suo grande amico fraterno ha detto che questa è la foto definitiva la voglio per il mio prossimo disco e così è stato dopo 3-4 anni quando è uscito il terzo disco aveva questa foto e questa foto ci ha legati fino ad oggi devo dire altri ritratti addirittura Bob Marley senza i dreadlocks Giacomelli grande fotografo qui siamo sempre nel campo molto stretto super stretto infatti io non uso ottiche o raramente uso ottiche spinte teleobiettivi perché quando soprattutto in studi in questa dimensione devo stabilire il contatto col personaggio non voglio urlare non voglio che si dimentichi di me devo essere lì e prenderlo e riprenderlo a seconda delle esigenze anche qui non serve altro cosa vogliamo aggiungere naturalmente non dico che queste siano delle foto fantastiche le migliori che si possono fare questi sono gli sguardi più riusciti in cui io mi riconosco in cui trovo quello che in qualche modo stavo cercando a volte però bisogna strapparli alcuni degli scatti che avete visto sono abbastanza modulari stessa luce stesso fondo in verità questo non è una scelta artistica è una scelta dettata dalle esigenze perché ci si trova a fare le foto in circostanze sempre spesso improvvisate e con poco tempo e a volte questa è la soluzione che permette di arrivare ad un risultato e Gassman era un personaggio inseguito per anni cercando di prospettarli come dire una fotografia alta un ritratto importante magari per una mostra e lui sempre era già afflitto da una depressione fortissima e avevo notato una volta che alla fine di una conferenza stampa di uno dei suoi spettacoli in teatro si era fatto tranquillamente portare dall'ufficio stampa a fare l'intervista con la radio l'intervista con la televisione poi contro un muro per quattro fotografi allora ho pensato forse la strada non è quella della grande ufficialità è quella proprio dell'improvvisazione e quindi l'anno dopo fortunatamente si è ripetuta la possibilità ho detto all'ufficio stampa dello stesso teatro di non dire nulla di portarlo semplicemente alla fine di tutta la trafila davanti al mio piccolo set che avevo montato nell'atrio del teatro e questo è il risultato pochi scatti veloci con scarsa disponibilità e la mente altrove però in questo scatto leggo il momento che stava attraversando Kazuo Ono monumento vivente un grandissimo artista giapponese anche questo colto in una situazione pubblica insomma di un incontro a margine di un incontro col pubblico in pochissimi minuti però un personaggio di un'intensità incredibile e questa foto tra l'altro è fatta a Roma è una foto importante perché raffigura Temina Durrani che è una scrittrice attivista pakistana che è riuscita a sfuggire a questo destino che colpisce molte donne essere acidificate dai mariti e ha scritto un libro e si è poi battuta per anni per aiutare donne che invece erano rimaste vittime di queste cose e Fakra è stata una di queste donne che lei ha aiutato a scappare dal Pakistan e l'ha portata in Italia per affrontare una sequenza di interventi che le ridessero almeno la funzionalità non certo l'aspetto originale e la cosa particolare è stato guardare l'inguardabile ma soprattutto vedere questa persona che si lasciava guardare e viveva come se fosse tutto normale o perlomeno ha cercato di farlo per un certo numero di anni poi si è tolta la vita questo è un momento di intimità a cui sono molto legato perché sono due artisti a destra Luri dell'Oriente che ho frequentato per tantissimi anni prima individualmente poi quando hanno fatto copia il nostro rapporto è cambiato ha avuto una specie di upgrade e subito ho voluto realizzare un ritratto di famiglia qualcosa che avesse quella dolcezza quella intensità che avevo visto per esempio nel ritratto di John Lennon e Yocono fatto dalla Libovitz e avevo negli occhi quella foto invece a sinistra di Jim Marshall di Johnny Cash con la moglie quindi si sono mescolate molte cose quella foto lo spirito con cui la Libovitz ha fotografato Lennon e la Yocono e questa foto siamo rimasti molto legati tutti e questa invece è un'altra foto è la mia prima foto digitale fatta in macchina di ritorno da un concerto di notte c'era questo bagliore continuo che si muoveva non riuscivo a capire che cosa fosse e poi girandomi notai che erano loro che stavano messaggiando con dei cellulari piuttosto voluminosi e allora feci fermare la macchina e dissi fermi tutti guardatevi questa è la foto e qui ancora l'Urid nello studio di Renato Ruatti un architetto di Milano che si è inventato una chitarra di alluminio fatta in un unico blocco per la quale poi l'Urid è impazzito e l'ha adottata come la sua chitarra preferita di nuovo il primo piano il volto questa è una foto fatta in condizioni estreme cioè siamo al Teatro Smeraldo di Milano backstage un attimo prima dello spettacolo Conte con cui avevo già lavorato diverse volte aveva accettato di farsi ritrarre in questo modo in verità qui stiamo rifacendo sembra un po' la storia di De André prima rifacendo una foto venuta male per questioni proprio logistiche anni prima e qui invece più controllata e mi sono trovato a dover scattare questa foto mentre in sala avevano già spento le luci e il pubblico stava applaudendo quindi mi sono trovato davanti l'artista in quella terra di nessuno in quella specie di limbo in cui passa diciamo dalle chiacchiere dalla dimensione più quotidiana del camerino alla dimensione invece del concerto nessuna domanda? qualcuno vuol fare pipì? ci possiamo fermare? dai ma allora per molti anni e poi soprattutto quando ho lavorato con Giovanna inizialmente era moda ho avuto la fortuna di di proporre ai giornali dei personaggi a cui ero interessato e di scoprire che erano interessanti anche per loro non amavo molto aspettare la telefonata e dover scaraventarmi in autostrada o in aeroporto per andare a fotografare un personaggio di cui non mi interessava nulla anche se ho sempre cercato di trovare un motivo di interesse e di curiosità per quasi tutti i personaggi che ho fotografato quindi per molti anni devo dire che sono stato fortunato in questo e con Giovanna ne abbiamo fatti parecchi di personaggi Conte credo che fosse quindi non posso chiamarlo un commissionato ovviamente ci sono stati anche quelli la collaborazione con Guido aveva delle caratteristiche diverse da quelle con tutti gli altri fotografi cioè potevano esserci certamente degli assegnati però spesso lui sapeva prima di noi prima dei giornali che c'era o un'ipotesi di torneo o un'ipotesi di uscita di un nuovo disco eccetera e allora magari me lo diceva però ci potevano essere lui ha citato Moda anche delle cose più buffe per esempio Moda era un mensile abbastanza stravagante per cui facevamo per esempio dei dei soggetti di tipo abbiamo fatto per esempio un'inchiesta su quegli oggetti demenziali che venivano pubblicizzati nell'ultima pagina dell'intrepido o del monello dove hai rimosso ma era eccezionale perché era il non so gli occhiali che ti fanno vedere le donne nude tutte queste cose eri tu e l'abbiamo fatto con Elio e le storie tese cioè io gli ho detto senti noi dobbiamo fare questa roba qua con chi lo possiamo fare e lui mi ha detto Elio loro ci stanno sempre a fare queste stupidate per cui abbiamo fatto questo servizio divertentissimo dove c'erano Elio e le storie tese che facevano finta di guardare dal buco della serratura che si mettevano degli occhiali oppure ancora anni dopo dovevo spiegare dovevamo spiegare le regole del baseball perché io non ho mai capito niente né di baseball né di sport e le regole del baseball chi poteva spiegarcele ancora Elio e le storie tese che hanno fatto sempre con Guido delle gag straordinarie dove spaccavano le mazze dove tiravano dei fuori campo dove facevano tutte delle invenzioni e queste nascevano da Guido Giovanna siamo al maxi non raccontiamo anche queste cose la cosa invece che va raccontata è che queste fotografie erano vere fotografie lui li chiama scatti in modo molto molto democratico che è un termine che io non cioè io penso che queste siano fotografie ma se voi volete vedere questi lavori che lui ha fatto appunto con Elio no non sono cazzate Guido sono veramente delle buone fotografie sono delle ottime fotografie certo non abbiamo colto l'anima di Elio ma abbiamo usato sapientemente la fotografia per raccontare qualcosa che ai lettori interessava molto e tu trovavi sempre la strada giusta per raccontarlo scusate no no come? no no ho avuto un allagamento l'archivio è tutto sparito com'è? no vabbè ok ti ho risposto ti abbiamo risposto ok qualcun altro voi ok dalle sue foto si capisce tranquillamente che la vicinanza con il soggetto è notevole le è capitato mai di avere delle risposte negative perché comunque lei invade un'area personale molto vicina insomma la prossimità insomma ha dato fastidio qualche volta allora innanzitutto quando lavori per i giornali diciamo c'è un rituale codificato per cui è tutto garantito c'è garantito il tempo che ti viene concesso una certa disponibilità e spesso il personaggio famoso ha anche il diritto di veto sulle foto quantomeno può dire la sua quindi in quelle occasioni difficilmente si creano degli impicci anche se poi ce n'è uno che racconterò più tardi invece può capitare che ci sia qualcuno che quando diciamo l'idea del servizio perché molti erano anche a tema come raccontava Giovanna l'idea del servizio nel momento in cui poi ti presenti sul set non sia così poi condivisa dal personaggio e allora bisogna rinegoziare diciamo che rifiuti totali mai quasi mai a parte uno Henry Rollins non so chi lo conosca un musicista un bello duretto anche attore scrittore che un giorno proprio negli studi di moda invitai perché ero molto interessato a fotografarlo si presentò senza dire una parola si piazzò sul set così monolitico sembrava un gladiatore questo per chi non lo conosce non lo conosce e feci appena una polaroid per misurare le luci e poi non ce l'ho il suo decalogo non faccio questo non faccio questo tu non mi fai fare questo non mi fai fare quell'altro al sesto settimo comandamento io ho alzato i tacchi me ne sono andato senza dire una parola temendo che mi mi aggredisse non fece nessun tipo di di mossa nei miei confronti e io me ne andai io lo lasciai lì naturalmente nessuno si scusò e io non capì perché questa cosa fosse successa non c'eravamo neanche scambiati una parola altre domande? magari se no andiamo avanti andiamo avanti ok allora sempre siamo ancora nel ritardo qui siamo diciamo abbiamo cominciato a vedere anche personaggi non musicali ecco io posso dire che credo di o mi illudo di aver applicato un occhio musicale anche personaggi non musicali cioè di averli trattati un po' da rock star in maniera irriverente o comunque cercando una complicità che spezzasse così la dimensione a volte istituzionale che dovevano avere le foto perché in alcuni casi poi vedrete mi sono trovato a dover fotografare anche dei personaggi delle icone insomma molto importanti questo no scusate volevo dire una cosa questo è Juan Michaels un grandissimo fotografo la cui cifra sono delle storie a parte alcuni ritratti che ha fatto singoli ma in verità lui ha sviluppato delle storie aggiungendo anche dei testi spesso queste storie erano delle scatole cinesi addirittura scatti successivi in cui c'era un avvicinamento a degli oggetti e a dei personaggi e poi se ne scoprivano altri un po' come Blade Runner quando Harrison Ford comincia col computer a girare dentro una foto fino a scovare una persona e lui usava anche tecniche il mosso l'esposizione multipla quindi quando ho avuto la possibilità di conoscerlo gli ho detto senti voglio fotografarti usando una delle tue tecniche ti fotografo con una doppia esposizione quindi non non c'era Photoshop ed era veramente una cosa molto improvvisata quindi usando la luce in un certo modo il fondo qui eravamo in un albergo addirittura e scattando più volte sullo stesso fotogramma ho creato queste immagini quando gli ho detto che avrei usato quella tecnica mi fa ah fantastico io sono stato un pugile allora facciamo che combatterò contro me stesso e così è nata questa foto qui invece la cosa si complica un pochino questo è Daniel Ezrolov famoso ballerino coreografo qui eravamo in uno studio a Milano di notte perché i servizi con lui duravano parecchie ore sempre alla ricerca lentissima di uno spunto eravamo arrivati ad aver esaurito le idee a un certo punto avevo visto questa pedana che si usava per scattare dall'alto e avevo notato la parte inferiore quindi queste assi che la tenevano insieme e gli ho detto ma perché non usiamo questa pedana e facciamo una cosa ti fotografo in modo da avere quattro volte quattro volte te stesso nella pedana e tu mi puoi dare quattro posizioni diverse potrebbe essere un esperimento interessante e lui mi chiede ma come fai questa cosa finissimo scattiamo il buio otturatore aperto e quando mi dici che sei pronto sei già in posizione io faccio partire il generatore poi torniamo a buio tutti sposti nel secondo vano poi nel terzo nel quarto assumi la posizione e mi dici che sei pronto e io scatto quindi abbiamo fatto questo io non sapevo cosa avrebbe fatto ho fatto una luce che potesse andare bene per un effetto scultoreo sul suo corpo e poi intuivo nel momento in cui partiva il lampo vedevo che cosa stava facendo senza capire dove sarebbe andato a parlare e la cosa straordinaria non è la foto ma è la padronanza assoluta del corpo di questo artista incredibile c'è una sequenza molto bella questa è una delle foto poi c'è stato un avvicinamento alla moda un mondo che non ho mai amato comunque non mi ha mai interessato mi ha preso di striscio quando ho potuto approfondire con dei personaggi quindi la moda in questi casi non era neanche importante non bisognava privilegiare il capo ma lasciare che l'artista si esprimesse insomma liberamente quindi ci sono stati alcuni anni in cui ho fatto dei lavori in questo ambito e quindi come dicevamo prima a proposito delle copertine di dischi poi le foto finiscono su un giornale dove la grafica impone certi ritmi tagli e con Giovanna devo dire che sono stato sempre molto fortunato ho avuto molto piacere di lavorare con lei ne è prova il fatto che ho lavorato per alcuni anni su Sport Week quindi in un ambito che proprio non è molto lontano da me dai miei interessi però l'ho fatto perché era divertente farlo con lei ed era anche una scommessa perché come ha detto si trattava di rivoluzionare il linguaggio fotografico applicato allo sport ed non è stato facile ma diciamo Giovanna non è stata mai quella che mi ha detto guarda portami una doppia e tre singole che diciamo questo è il massimo del livello creativo dei foto editor che poi non esistono più perché credo che Giovanna sia stata veramente l'unica insieme ad Amilcare Ponchielli e forse Pietroni che poi ha fatto più il direttore se vogliamo però ha creato l'immagine di giornali come Max Max pre-calendari quindi importante è stato quando ci sono stati degli incontri con con foto editor che mi hanno stimolato insomma hanno accettato anche così un margine di improvvisazione ok qui siamo Frank Zappa qui siamo nell'82 l'anno in cui esplosa l'alta moda italiana nel mondo e quindi per me fan di rock portare Zappa uno dei miei miti sulla copertina di Uomo Vogue era un obiettivo fantastico e ci siamo riusciti e per una volta ho voluto fotografarlo non da fricchettone come avete visto in quell'altra foto ma in una chiave seria anzi seriosa volevo fotografarlo cogliendo la sua ambizione di compositore di musica contemporanea all'epoca le sue musiche non erano ancora eseguite da grandi orchestre né produceva in quantità industriale aveva la casa zeppa di queste partiture già pronte per orchestra come era zeppa di dischi che non aveva ancora pubblicato lui per chi lo conosce la produzione di discografia di zappa è veramente sterminata beh lui passava il tempo a casa a registrare dischi a stamparli e a stoccarli nei vari sottoscala e nel bunker che aveva sotto casa e diceva tutti questi dischi copertina bianca tutti questi dischi un giorno li pubblicherò che budget aveva e fu molto divertito da quest'idea infatti poi una foto di questo servizio fu usata sulla copertina di un disco Leonard Cohen è un altro artista che amo moltissimo e che è legato a un ricordo appunto degli inizi mi ricordo quando venne nel 75 in Italia a promuovere la traduzione italiana di uno dei suoi romanzi fece un incontro con la stampa un piccolo concertino tre quattro canzoni ed mi sono trovato fianco a fianco con Giuseppe Pino che non conoscevo personalmente ma ammiravo da anni e quindi mi sono quasi dimenticato di fotografare Cohen e osservavo Giuseppe in mezzo ad altre persone e a un certo punto Cohen si congedò dai giornalisti mettendosi in posizione yoga a testa in giù e Giuseppe scattò questa foto il giorno dopo io avevo un quarto d'ora con Cohen in albergo per fargli dei ritratti in luce naturale all'epoca non usavo i flash né medio formato e ancora prima di finire vede una testa sbucare dalla porta ed era Giuseppe che aveva a sua volta un quarto d'ora con Cohen allora ero un po' intimidito dal fatto che lui mi osservasse però sembrava approvare quello che stavo facendo e al punto che poi incoraggiato gli chiedi posso guardare e quando fai le foto mi dice si guarda pure allora anche lui in luce ambiente bianco e nero sgranatissimo e fece due ritratte abbastanza così niente di tipico pino ma a un certo punto disse senti ieri disse a Cohen ieri ti ho visto congedarti dei giornalisti in posizione yoga ti piacerebbe rifarmela allora capì ah però allora bisogna prendere tutto per cioè non bisogna prendere quello che l'artista ti dà in quel momento il personaggio il soggetto ti dà in quel momento bisogna pungolare bisogna chiedere riproporre richiedere e facendo tesoro di questa lezione io veramente ero proprio all'inizio in quell'occasione ho avuto diverse occasioni in cui ho potuto fotografare Cohen memore di quella lezione gli ho sempre chiesto di fare qualcosa di particolare questa è stata una di queste di quelle cose strane dandogli un'imbeccata eravamo in un non in un museo ma in un albergo c'era questo grandissimo quadro con una donna nuda e conoscendo la sua attenzione quasi morbosa per l'universo femminile gli dissi se ti comincia a simularmi una sindrome di Stendhal qualcosa del genere vediamo dove ci porta e lui cominciò a fare tutta una serie di a simulare una serie di turbamenti torsioni varie poi adocchiato questo tavolo e disse portiamo il tavolo qui e si adagiò in posizione fetale quindi un piccolo esempio spicciolo veloce di collaborazione di complicità quasi tra fotografo e artista questa è una foto delle più pubblicate mie anche questa improvvisata in un albergo una foto che ci ha poi legati nel tempo perché lui l'ha usata più volte Peter Gabriel Patty Smith qui in un festival una foto che fa parte di una sequenza di artisti di varie nazionalità fotografati tutti nella stessa stanza nell'arco di anni Tom Waits ecco per chi è interessato molti la conoscono sta storia soffro a doverla raccontare un'altra volta ma comunque lo faccio allora Tom Waits un altro mito inafferrabile non avrei mai immaginato di trovarmelo davanti è successa una cosa curiosa perché in genere si ha poco tempo e l'artista sempre malmostoso ma in quell'occasione la casa discografica mi chiamò e mi disse Tom Waits promuove un disco a Parigi ci ha dato tre intervalli di tempo per tre fotografi sono intervalli di cinque minuti abbiamo pensato che in cinque minuti nessuno fa una grande foto abbiamo pensato di dare a te tutte e tre gli intervalli in totale hai un quarto d'ora magari riesci a cavarne qualcosa di buono ho detto beh grazie infatti ho acceso molti ceri a quella discografica qui eravamo nel 92 a Parigi va bene arrivo alla foto tralascio tutto il resto che era diciamo non molto come dire edificante nel senso che Tom Waits non aveva voglia di farsi fotografare cercava di provocarmi mi chiedeva di fotografarlo mentre masticava mentre mangiava uno spuntino cosa che è terrificante con le guance tutte gonfie poi si era sporcato l'abito ho tentato di pulire mi ha detto no ci ho messo così tanto tempo a ridurlo così e a un certo punto ho detto lasciamo perdere arriva un fotografo francese che conosco un amico che non vedo da tempo cominciamo a chiacchierare aveva anche lui i suoi cinque minuti chissà perché il fotografo mi dice quando è il suo momento mi dice ma dai vieni continuiamo a chiacchierare mentre preparo e quindi ci infiliamo in questo cortile lui aveva allestito un set c'era un telo inchiodato a una parete di legno c'era il suo assistente con due flash a batteria dei Norman tenuti a mano neanche su cavalletto e lui scattava in 35 mm quindi l'assistente così Tom Waits in posizione e lui che scatta il rullo io sono lì guardo abbiamo scambiato qualche parola finisce il rullino e deve riavvolgerlo e ricaricare la macchina l'assistente è sempre lì così e non non dà una mano non aveva previsto di ricaricare un'altra macchina in quel momento è stata una sequenza proprio di pochi secondi Tom Waits non ne può più vede si gira vede il telo lo strappa se ne fa un mantello capita l'antifona comincia a scattare perché ho pensato che non avrei tolto nulla al mio amico collega Waits capisce che quell'azione che per lui era casuale di insofferenza stava diventando qualcos'altro poteva tradursi in un'immagine e cominciò allora a recitare per me e a correre in questo cortile e ecco questa è un po' la sequenza nel primo scatto a sinistra vedete un pezzettino del fotografo che sta riavvolgendo il rullo quindi recita e comincia a correre nel cortile e io lo seguo ovviamente gli scatti sono molto approssimativi però insomma l'azione si prolungava finché mi sono fermato e l'ho aspettato al varco ed è così che è arrivata questa immagine quindi come dire mai perdere la speranza e però un momento un momento grazie grazie poi qualche anno dopo sette anni dopo ricapita stranamente la stessa cosa cambia casa discografica ha un altro disco da promuovere la nuova casa discografica non so se informata di quello che era successo sette anni prima mi propone la stessa identica cosa siamo in America in California tre intervalli di cinque minuti li diamo tutti a te io ho detto non è possibile e quindi andiamo ma la cosa diciamo il fattore di diversità è questo a Parigi erano tre intervalli nell'arco della stessa mattinata qui erano tre intervalli in giorni diversi nell'arco di una settimana quindi e in giorni alterni quindi lunedì cinque minuti mercoledì cinque minuti venerdì cinque minuti ovviamente Tom Waits si dimenticava chi fossi io da un giorno all'altro al punto che non ne poteva più di vedermi e il discografico che era in soggezione totale non mi ha difeso assolutamente quindi al terzo giorno vi lascio immaginare la situazione comunque avendolo già fotografato ho capito che si poteva improvvisare e lui avrebbe sempre cercato di spiazzarmi qui eravamo su una ferrovia e all'improvviso si mise a correre sembrava una scena da un film di Chaplin ma in verità lui aveva un altro riferimento in testa perché cominciava a urlarmi Guido scatta scatta Zampano e allora insomma non so dove l'avesse visto Zampano in questa situazione comunque va benissimo tutto pur di fare una foto e dopo questa sequenza così si congedò con questa posa che io chiamo ornitologica e sull'ornitologico insomma ci siamo divertiti anche con Vinicio insomma questa è proprio un'affinità elettiva fra i due negli anni questa foto fatta il giorno che ci siamo conosciuti insomma alle 5 del pomeriggio si era appena alzato a Rimini e qui invece qualche anno dopo per la copertina di un disco in questo caso aveva già delle idee chiare voleva ispirarsi a Deadman un film di Jim Jarmusch uscito in bianco e nero con colonna sonora di Neil Young e quando mi disse questa cosa mi veniva in mente una foto che non è un fotogramma del film ma così mi girava in testa volevo fare questa foto in un fiume con lui vestito tipo un vecchio cercatore d'oro disperso in mezzo a una prateria la prateria invece era l'Appennino Emiliano e il fiume era un torrente e lui era molto restito a fare questa foto finché capì che non ne saremmo usciti vivi se non l'avesse fatta e si butta in acqua e cominciò a spruzzarmi con il suo cappello poi questa foto come vedete è stata apprezzata e utilizzata questo invece è un incontro molto speciale come dicevo prima ho sempre proposto ho spesso proposto personaggi che mi incuriosivano e un giorno avevo letto un articolo su un compositore jazz americano Hannibal Peterson di cui non sapevo assolutamente nulla veniva in Italia a proporre un'opera jazz che aveva scritto Diary of an African American in cui raccontava un po' una sua esperienza sembra un po' una fiaba in America gli era stato diagnosticato un tumore terminale aveva scelto di andare a morire in Africa in Africa aveva conosciuto uno sciamano l'esito lo potete bene immaginare è rinato a nuova vita e quindi leggendo questo articolo ho detto ma questo qui lo voglio vedere lo voglio annusare un attimo stare nello stesso metro quadrato quindi usavo la fotografia come un pretesto lui ha accettato di farsi fotografare ha montato un set in un albergo persona veramente serenissima fantastica abbiamo scambiato poche parole ma insomma era veramente molto speciale però le foto non venivano erano dei ritratti convenzionali forse era il momento sbagliato c'era un concerto la sera e allora dopo un po' ho detto grazie grazie del tempo ti manderò qualche scatto e bom e comincio a spegnere il set e spengo le luci frontali normalmente in una frazione di secondo il personaggio sparisce ha di meglio da fare invece vedo che lui non se ne va e anzi aveva questa figlia piccolina che li ronzava intorno e lui si ferma proprio nel punto stesso in cui aveva posato per le mie foto vedo questa cosa esattamente come la vedete voi adesso in silhouette e ho detto qui forse c'è qualcosa prendo la macchina mi sdraio per terra e aspetto e scatto e comincia una danza fra padre e figlia ho lasciato volutamente tutti gli sporchi i cavi gli ombrelli un po' del fondo e il padre fa suonare la figlia poi riprende la danza la figlia torna un po' incuriosita e tac mette il viso nella campana della tromba ho detto bene non me lo sarei mai aspettato non so neanche io vi ho raccontato la storia proprio per un motivo la foto rispecchia quella storia no se non la sapete guardate la foto e basta vi può ispirare come no la cosa che mi ha colpito è che quando sono andato in America qualche anno dopo la gente che ho prontamente mollato vedendo questa foto nel mio book che ho stampato in doppia pagina molto orgoglioso disse ma questa è una silhouette come un'altra la togliamo ma forse lo è ma comunque bisogna guardare le cose sempre da più in colazione e qui arrivano le grandi icone italiane di cui avevamo parlato questo è un progetto a cui Giovanna ha dato veramente una mano nel senso che era un progetto eravamo alla fine degli anni 90 c'era un momento di passaggio io dovevo ancora andare in America volevo andarci con un progetto come fanno gli americani cioè che hanno i ritratti dei più grandi personaggi dei presidenti della repubblica eccetera eccetera e ho detto nessun giornale mi commissionerà mai tutti questi servizi nel corso di una di una sola vita e forse nessun giornale italiano lo farà mai in assoluto quindi mi sono inventato una mostra che si chiamava Italians e quindi voleva documentare le eccellenze italiane cioè anche i personaggi grandi che hanno reso grande l'Italia nel mondo ma che magari in Italia sono anche poco conosciuti poco conosciuti anche col loro viso e quindi mi ricordo che ne parlai con Giovanna Giovanna all'epoca lavorava allo specchio della stampa e accettò di dedicare quasi un numero intero del giornale a questo progetto dando anche una mano finanziariamente alla sua realizzazione e quindi io cominciai per due forse tre anni in due o tre anni ho fatto 130 ritratti volendo farli anche tutti diversi uno dall'altro se possibile e questa è una cosa di cui si parlava prima cioè io penso che ogni personaggio il ritratto come incontro ogni personaggio è diverso gli si deve almeno un azzeramento di schemi tecniche c'è bisogno di avere un occhio sempre fresco attento e quindi il mio desiderio era quella di non mettere tutti i personaggi sul fondale tutti uguali ma di di coglierli a volte nella realtà del lavoro di casa o anche in condizioni improvvisate però sempre con qualcosa di diverso e qui ce n'è una piccola sequenza Agnelli è forse quello a cui tengo di più proprio per la sua difficoltà difficoltà grado di difficoltà se vogliamo e la cosa fu curiosa perché come si stabilisce un rapporto con un'icona del genere mi fecero fare un sopralluogo a scegliere le location all'ingotto nella sede della Fiat e qualche giorno prima di questo scatto fotografai sempre per Italian la sorella Susanna a Roma e fu un incontro molto simpatico apprezzò molto quella che per lei era una certa delicatezza vengono certi caproni qui a fare le foto ti trattano come carne da macello benissimo le chiesi qualche consiglio su come trattare l'avvocato come qualche suggerimento insomma su come approcciarlo qualche giorno dopo mi presentai in Fiat e la cosa pazzesca il suo ufficio stampa era estremamente protettivo nei suoi confronti aveva messo molti paletti e dovevamo fotografarlo in due o tre punti della Fiat insomma tutto era difficile però la cosa incredibile fu che quando infilai il corridoio che portava al suo ufficio c'era la porta aperta lui era di spalle appoggiato alla sua scrivania non ero ancora entrato nell'ufficio lui si girò mi guardò con quel sorriso beffardo e mi disse ah ah io rimasti folgorato e poi dopo una brevissima pausa non ero ancora dentro l'ufficio e dice mia sorella mi ha parlato benissimo di lei allora entrando ho guardato quelli dell'ufficio stampa quattro responsabili gli ho gelati come dire adesso me lo pappo io e lui mi disse guardi mia sorella mi ha parlato benissimo di lei mi ha detto è bravissimo meglio di Newton vabbè una piccola medaglietta comunque abbiamo chiacchierato moltissimo e la cosa che mi colpì fu che non stava zitto un attimo bombardava di domande ma lei ha conosciuto lei ha fotografato ma lei perché fa il fotografo ma lei come ha scelto di fare il fotografo dove è nato io ho detto sono nato al Cairo in Egitto il Cairo l'Egitto è un mio paese preferito e poi guarda la mia assistente e lei dove è nata e lei che era figlio di un diplomat sono nata a Dakar il Senegal il cuore dell'Africa nera insomma sembrava veramente si potesse fare di tutto quando arrivamo a questa a questa foto ah poi gli chiesi anche se vi diverte non l'avete sentita gli chiesi perché lui continuava a bombardare ha fotografato von Karajan ha fotografato Gassman e lui dice ma senta lei ha conosciuto Andy Warhol è stato ritratto lei anche Marella siete stati ritrati da Andy Warhol ma com'era Warhol quando l'ha conosciuto all'epoca della factory della silver factory o dopo infatti si un tipo freddo geniale abbiamo passato tutto il pomeriggio a mostrarci le cicatrici delle nostre operazioni quella è una foto che vorrei aver fatto e poi salimmo qui nella bolla del lingotto dove c'è un tavolone enorme dove siedono i potenti che arrivano in elicottero su questo bilanciere e per fare questa foto i quattro dell'Ave Maria dell'ufficio stampa dovevano starsene ben lontani e io ero a mezzo metro ero appoggiato proprio nella parete di cristallo e ero a mezzo metro da Daniele a un certo punto mi avvicino perché c'era qualcosa che non andava nella giacca sento che si rigidiscono i quattro mi avvicino veramente e aggiustando lì la giacca vedo che ha due bretelle di un blu elettrico pazzesco allora gli dico avvocato dico che ne dice facciamo una foto senza la giacca e lui vedo che pensa sorridendo e dice no guardi assomiglierei troppo a Giuliano Ferrara questo è il livello di comunicazione grazie beh grazie all'avvocato al suo spirito e poi questa foto nacque dal desiderio di creare qualcosa di molto scenografico non sapendo cosa fargli fare mi inventai gli dici indichi quello che vede lei è tutta Torino ai suoi piedi mi indichi quello che vede allora comincio la basilica la chiesa il palazzo e ovviamente scattando nella frazione di secondo in cui lo specchietto della macchina si solleva non si vede cosa succede e quindi dopo guardando i provini trovai questa foto che non aveva niente di quello che io avevo chiesto di fare perché non sta indicando nulla ma mi colpiva sia il gesto la dinamica le linee le curve quello che voi già state vedendo ma lo sguardo che in un occhio è sofferente in un altro aveva subito un'operazione all'epoca e nell'altro invece c'è ancora un barlume di uomo del comando se vogliamo Piano Renzo nel suo quartiere generale freddissimo freddo geniale aveva un unico punto di calore che era questo piccolo laboratorio dove uno dei suoi tecnici creava i modellini allora gli chiese di fare questa foto e dice no no poi la gente penserà che sono io che faccio i miei modellini beh che c'è insomma piano piano l'ho convinto abbiamo fatto questa foto poi l'idea evidentemente gli è piaciuta perché anni dopo l'ha rifatta con un altro fotografo che forse ha sentito il gelo del suo ufficio Giacomelli nella sua camera oscura grande viveur aveva quest'area da vecchio beatnik girava in macchina sportiva poi aveva un piccolo atelier dove vendeva una stamperia credo una tipografia dove vendeva ciondoli per adolescenti stampette delle sue foto famosissime e Alda Merini un altro incontro interessante grazie all'intercessione di Licia Maglietta che all'epoca attrice di Teatri Uniti all'epoca portava uno spettacolo a teatro con i testi della Merini qui eravamo nella sua casa sui Navigli a Milano tre stanze o quattro ma piccolissime devastate con un accumulo di oggetti tra i più diversi in sala c'era un altare fatto di foto oggetti elettrodomestici cianfrusaglie in bagno nella vasca da bagno c'era un copertone di un tir non so cosa ci facesse per terra mozziconi di sigaretta soldi scritte sui muri la camera da letto questa con tutti gli armadi sventrati cassetti tirati fuori in tutto questo casino che mi aveva aggredito difficile da metabolizzare in poco tempo insomma avrei dovuto passarci un mese per poter proprio cogliere tutto la cosa che più mi colpì fu questa specchiera con numeri di telefono scritti con rossetto per la cronaca quello in alto era il numero di Costanzo e poi arrivò una telefonata perfettamente in sintonia con lo scatto e così mi sembrò anche un riferimento alla voce umana di Cocteau questa telefonata tesissima di una donna Ferré nel suo studio con questo strumento d'architetto a cui era molto legato un muritato abbastanza tranquillo se vogliamo che poi ha acquisito un valore per lui perché quello studio è bruciato e questa foto era l'unica cosa l'unica testimonianza che aveva degli oggetti raffigurati Mario Luzzi un eterno bambino fotografato a casa sua dopo alcuni scatti alla macchina da scrivere insomma quelle cose che terribili che fate fare a uno scrittore che non sapete come cavarvele in un ambiente minimalista e dir poco a un certo punto quasi al momento del congedo notai questa vestale questa cappatoia in un angolo e allora gli disse andiamo sul terrazzo se lo mette sì sì mi tolgo la camicia sì sì si tolga anche la camicia e così per un attimo ho fantasticato che fosse così Paul Bowles al sole del Marocco con queste rose seccate perché serve molto sembra stupido ma serve molto avere ganci da qualche parte che vi spingano vi guidino verso l'ispirazione posso fare una allora voi vi sarete accorti guardando queste fotografie che il registro con il quale lui affronta i vari personaggi cambia di volta in volta come ci ha premesso ma non cambia solo la relazione con le persone ma cambia anche in qualche modo lo stile narrativo cioè la cosa per esempio che ha sempre colpito me nella foto di Tom Waits è che con un signore in movimento dove sai sapevo la storia dove sai che c'è un tuo amico che sta avvolgendo il rollino tu sei di corsa eccetera l'inquadratura la composizione sono sempre impeccabili così come lo sono nel ritratto di Agnelli così come lo è in questa immagine e come lo è quasi sempre in tutte le fotografie nelle quali si passa dal primo piano quindi da una relazione estremamente intensa che Guido sa cogliere molto bene ha dei ritratti come dire quelli che sono dei ritratti ambientati lui ci ha fatto vedere per esempio e non l'ha sottolineato ci ha fatto vedere il ritratto che ha fatto Arnold Newman a Krupp e ha sottolineato l'uso del grand'angolo secondo me è un atteggiamento molto minimalista quello di affrontare da un punto di vista tecnico quello che è il viceversa una scelta espressiva perché nel caso di Krupp la scelta del grand'angolo era dettata dal fatto che il signor Arnold Newman era ebreo e Krupp aveva prodotto come credo che sappiano quasi tutti in questa stanza comunque era un suo bisogno che nasceva per demonizzare la persona che aveva davanti quindi l'uso del grand'angolo in funzione strumentale in funzione creativa non perché bisogna andare vicino ma perché io tu sei un assassino io voglio che si veda nella mia foto devo farlo per un giornale quindi comunque ti rispetto ma voglio che si veda una tua intrinseca cattiveria scusatemi questa digressione ma io credo che una delle forze di questi ritratti che ovviamente l'autore minimizza e addirittura sottace sia proprio legata a questa sua capacità di essere fotografo cioè di riuscire a utilizzare qualsiasi registro della fotografia in funzione della risoluzione del problema che ha davanti e della personalità della persona che ha davanti che nasce dal rispetto ma che nasce anche da un'acquisizione di tecniche narrative molto profonde ti devo applaudire hai praticamente scritto metà dell'introduzione al mio prossimo libro ma sul discorso del grand'angolo come ho detto per me è più una scelta di come dire di abbraccio del soggetto di contatto poi giustamente e come dicevamo anche per quello che riguardava Penn può essere una scelta invece filosofica di messaggio insomma della foto per il resto diversi registri ma in verità io ogni volta che fotografo un personaggio di certo non mi illudo di coglierne l'essenza in uno scatto ma cerco magari di dilatare il tempo per tentare anche approcci diversi per esempio con Dalla magari nella stessa occasione realizzare il ritratto ambientale e magari anche un ritratto più stretto in una dimensione più raccolta di studio con luce e fondo proprio perché non so in quel momento quando si verificherà il quando apparirà la visione giusta insomma giusta per quello che io mi aspetto in quella in quell'occasione per esempio Margherita Hack dopo un lungo viaggio in auto fino a Trieste quasi non voleva farsi fotografare e mi sono guardato intorno non voleva nessun riferimento al suo lavoro all'astronomia assolutamente nessun tipo di empatia c'era solo questo giardino piccolissimo peraltro molto curato l'ho chiesto ma è lei che lo cura ma sì sì ecco perfetto e via invece qui ecco si arriva da una persona di cui si conosce tutto il cinema l'umorismo l'ironia e anche quasi un cartoon lei stessa si arriva in casa e con molta disinvoltura mi ha mostrato vari ambienti su due o tre piani e a un certo punto arrivati all'ultimo piano al bagno mi dice ecco adesso ti mostro il bagno è il mio ambiente preferito ho detto anche il mio pensavo a Peter Gabriel ma non glielo ho detto ma ho detto benissimo la foto è questa ok va bene mi devo spogliare scè e lei si è infilata e c'è questa strana sensazione che lei sembra una sfinge una creatura così almeno io vedo quello e c'è comunque un oggetto significativo perché quella culla a destra è la sua culla tutta la casa era piena di ricordi e dopo aver fatto questa foto sentendo questa questa disponibilità o complicità ho detto senti vorrei farti anche un ritratto sul fondale ah si si benissimo quanto tempo ti ci vuole per preparare ho detto ma 20 minuti così fa benissimo vado a fare la spesa poi torno preparo e mangi qui vero va bene e e monto il set benissimo quando arriviamo al momento del set dico beh che facciamo sul set a parte il ritratto quello canonico il viso ok e lei mi fa beh facciamo così faccio come ai miei provini io chiedo sempre ai miei attori di dirmi due cose che sono le cose più difficili da dire ti amo e vaffanculo allora le ho detto beh la shopper del ti amo dimmi vaffanculo e lei è partita con una serie di interpretazioni fantastiche direte perché non ce le fai vedere perché questo è lo scatto che va visto perché questo poi è lo scatto pregnante di quella giornata Alessi industriale che coinvolge grandi designer nella creazione di oggetti per la casa Mimmo Paladino nel suo studio Miuccia Prada che vuole farsi ritrarre qui siamo sempre nell'ambito del progetto Italians vuole farsi ritrarre così struccata quasi spettinata senza nessun tipo di così cura però apprezzo molto questo scatto tant'è vero che qualche anno dopo quando il Guggenheim organizza una mostra con un dialogo ideale fra lei e la Schiaparelli Miuccia Prada scelse una delle foto di quel servizio non andò così liscia con Armani vi allargisco gratuitamente come dire non spendete troppi soldi in un workshop basta un'ora così e siete a posto per la vita non è vero ma è bello dirlo allora Armani sempre progetto Italians personaggio che avevo fotografato di corsa un'altra volta mi manda una videocassetta per entrare con la sua lunga intervista per entrare nella filosofia nello spirito della signora Armani benissimo poi secondo step sopra luogo nella sede di Milano di via Borgo spesso credo mi fanno vedere degli ambienti ne scelgo uno faccio una mia classifica benissimo arriva il giorno del servizio mezz'ora di tempo mi dicono può montare il suo set qui dico ma veramente i tre posti che avevo scelto preferivo no qui benissimo era quello che mi interessava di meno e d'accordo la biblioteca personale di Armani ok guardo va bene imposto lo scatto valorizzando facendo una cosa un ritratto ambientale valorizzando lo spazio che ho davanti benissimo una macchina una mia 6-7 su cavalletto bassa con un obiettivo semi grandangolare insomma per accogliere l'ambiente il suo assistente mi aveva mostrato una foto di un altro fotografo appoggiato un ingradimento appoggiato per terra in un angolo dicendomi vede quella foto dico sì ecco quella è una foto che il signor Armani ama molto ce l'ha già vabbè e arriviamo con tutte queste piccole premesse al momento lui arriva mezz'ora si scattava in analogico quindi c'è il tempo terribile della Polaroid da sviluppare a Polaroid di prova che serve sia per controllare le luci ma anche per far approvare la foto al personaggio prima che si impegni se possibile allora arriva impenetrabile perché la macchina è così bassa dico perché l'ambiente no 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 un po' più su vabbè più su e mi sono sentito come Totò e Pasquale no? la famosa gag un po' più su va bene Polaroid perché questo obiettivo vede l'ambiente no 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 questo distorce troppo no no metta metta un medio tele sembrava che fossi fosse un ritanto commissionato da lui va bene metto il medio vediamo vediamo dove finiamo metto il medio tele scatto perché così illuminato dietro abbassi la luce un pochino sullo sfondo va bene abbasso la luce sullo sfondo faccio un'altra Polaroid senta sul viso mi faccio una luce più concentrata mandando a nero la fronte perché lui ha i capelli bianchi che su fondo chiaro sembra che non ce li abbia vabbè dico va bene faccio anche questa la guarda sta per dire qualcosa e dico senta questa è la mia foto se vuole che io scatti la sua stiamo perdendo un'occasione lui senza guardarmi gli occhi guardando in basso così e parlando traumaticamente di sé in terza persona dice se lei non vuol dare ascolto al signor Armani vuol dire che avremo buttato via mezz'ora del nostro tempo allora che fareste voi adesso faccio io la domanda vi sareste incazzati no vabbè dai facciamola usciamo vivi da qua e poi rifletteremo tutt'al più non lo metterò nella mostra faccio la foto quella che vedete poi Armani in genere nei suoi ritratti ha due espressioni quelle vendono il resto non funziona quindi non ci si avventura mai al che gli dico senta posso farle un taglio più stretto nessun problema tipo Conte un taglio proprio crudissimo luce ancora più cruda dico le rughe non me ne frega niente benissimo ho scattato il mio scatto però insomma la foto che racconta la giornata in realtà è questa però diciamo che sono sempre curioso di imparare qualcosa di nuovo soprattutto sulla psicologia dei miei soggetti e su come vivono la loro relazione con la fotografia Morricone tagliare? otto e mezza lasciamo un minuto per l'aperitivo sì sì va bene io non credo che ci sia molto ancora no no che seconda è il finale come? domani però no fate qualche domanda se ne avete anche perché qui chiudono i cancelli poi ci ritroviamo veramente fino a domani allora innanzitutto volevo innanzitutto vabbè spiegare volevo capire un attimo secondo lei in realtà non è una domanda ma è un punto di riflessione riflessione nei confronti di tutti i fotografi o comunque gli artisti creativi che ci sono qui lei in base alle sue esperienze e anche i confronti di altri fotografi cosa secondo lei nel corso degli anni anche grazie a oggi che c'è una tecnologia diversa nella fotografia ci sono molti più strumenti ma cosa hanno perso i fotografi oggi rispetto a prima secondo lei allora i fotografi professionisti sono una cosa i proprietari di macchina fotografica sono un'altra io penso che i fotografi non abbiano perso proprio nulla anzi sono forse stati avvantaggiati dalla tecnologia che permette di avere una verifica istantanea il primo servizio vero che ho scattato in digitale è stato curiosamente con Armani anni dopo molto più tranquillo avevo mezz'ora di tempo ho finito dopo 20 minuti ero contentissimo ho guardato la logica e ho detto avrei avuto ancora 10 minuti questo è già un grande vantaggio ma penso che bisogna fare una riflessione ma è un po' trita sulla proliferazione delle immagini attraverso cellulari social eccetera l'unica riflessione che mi sento di dire è che si perde il momento il vissuto cioè si si pensa che si viva il momento catturandolo con un cellulare o una macchina fotografica invece bisogna vivere e quando i ragazzi mi dicono ma come si fa a cominciare ma che direzione potrei prendere io dico sempre vivi prima vivi fate 10 anni di vita e poi qualcosa emergerà forse no il forse non è relativo al talento è relativo al fatto che magari in quei 10 anni si può anche scoprire che la fotografia non è proprio il linguaggio ideale per quella persona per esprimere quello che ha da raccontare si pensa perché la tecnologia rende tutto più facile però più è facile e meno è coinvolto il pensiero quindi diventa poi un'avventura senza sbocchi credo che il segreto sia vivere comunque avere curiosità curiosità verso l'altro e avere qualcosa da raccontare e capire che la fotografia è il linguaggio ideale per raccontarlo nelle tue foto le modalità di intimità nelle tue foto le modalità intimità come riesci a congelare il primo rapporto tra te e il soggetto che hai appena conosciuto come fai a vivere a capire subito l'intensità in base alla persona che c'è davanti cioè non so se mi sono spiegato ma nel senso cioè quella foto secondo lei è perfetta per quella persona a livello psicologico perché? no non so se è perfetta per quella persona perché la foto è il risultato di tutta una somma di fattori alcuni dei quali come capito imprevedibili quindi si può spingere una persona verso la realizzazione di un'immagine ma io penso che il soggetto deve sempre riconoscersi nella foto non credo al fotografo che impone la sua cifra mi piace molto mi diverte molto la chapelle ma non amo quel tipo di fotografia la guardo con ammirazione perché chiunque capiti nelle sue così nelle sue grinfie diventa parte di quel mondo questo è un esempio estremo come anche Newton per esempio ma penso che la mano del fotografo non si debba sentire si debba sentire vedere il personaggio poi capire magari che quello che stai vedendo lo stai vedendo perché il fotografo ha fatto un ragionamento di un certo tipo e ha avuto un approccio di un certo tipo ma quello che devi vedere è il personaggio capisci? il soggetto voglio dire perché questo vale anche per persone persone comuni io non fotografo certo solo celebrities ma anche persone comuni di cui cerco di carpire le storie io ho fatto dei reportage che non ho inserito qui per esempio nella sanità uno in particolare per la provincia di Milano era un progetto collettivo con 12 fotografi mi avevano affidato l'ambito della sanità mi sono domandato come avrei potuto sviluppare quel tema e poi ho capito che dovevo cercare le storie ci ho messo un mese però sono stato lì collaborando con i medici conoscendo le persone i parenti i malati e piano piano sono venute fuori le foto non so dirti che foto sono ma sono foto rappresentative di quelle persone di quelle storie è l'unico approccio che conosco non riesco a a fare in un altro modo una cosa che vorrei dire ma proprio sparandola alla fine perché per me è importante è questo adesso non so se riuscirò ad arrivarci dobbiamo correre ragazzi scusatemi però una cosa importante per me è stato questo ecco negli ultimi 15 anni fotografare senza macchina fotografica vi direte cosa vuol dire vuol dire che questi sono alcuni dei libri che ho fatto vuol dire che a un certo punto mi sono disamorato della fotografia del ritratto un po' perché ho perso gli oggetti di affetto si sono proprio decimati per questioni proprio anagrafiche un po' perché era cambiato tutto era cambiata la fotografia se avevo bisogno di più parola che immagine e mi sono dedicato a realizzare dei libri innanzitutto su personaggi che avevo frequentato De Andrè Gaber Martini ho conosciuto anche Fernanda Pivano ho realizzato un libro con lei cosa è successo quando ho realizzato questo libro ho scoperto come fare la fotografia ideale l'abbraccio totale del mio soggetto cioè mettendo mani a tutta la sua vita attraverso l'archivio attraverso le memorie quindi io per tre anni con Fernanda ho avuto in mano 15.000 negativi di Sozzas che ho guardato come se fossero il frutto del mio sguardo ho avuto i carteggi con Kerouac con Ginsberg con Hemingway Pavese insomma ho messo veramente le mani dentro una vita intera e questo libro è la mia fotografia io cominciando a lavorare su questo presento ho detto beh metterò anche una mia foto di Fernanda sì ne ho messa una ma è una foto di cronaca di un momento verso fine lavorazione di un incontro tra lei Riccardo Muti di cui lei era stata insegnante di pianoforte questo forse non lo sa nessuno oppure l'incontro con Lurid ma di fatto era irrilevante la mia aspettativa il libro era la cosa importante quindi nel tempo in questi 15 anni sono passato a un altro tipo di progetto ignorando quasi totalmente la fotografia il progetto più grosso riguarda un personaggio che io non ho conosciuto che è Pasolini da 4 anni sto lavorando un libro in una maniera veramente inconsueta perché è un libro psichedelico non è un libro filologico non è un libro rispettoso nel senso rispettoso dei documenti delle testimonianze ma è un libro che entra proprio nei cassetti della memoria in questo archivio sterminato e vuole far guardare e far riascoltare una voce importante infatti c'è una diapositiva finale che mi sembra ficcante per questa presentazione che dice bisogna aver molto parlato per poter tacere che mi sembra veramente il senso di tutto grazie 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 Guido io soffro quanto voi a dover chiudere qui diciamo che ne faremo un'altra intanto ve le sparo ve le guardate queste sono dal libro della Pivano grazie veramente grazie grazie anche a Giovanna Calvenzi vi ricordo il 21 aprile il prossimo appuntamento sempre con Giovanna con Lentizia Battaglia e Giovanni Castel grazie a tutti per essere venuti buona serata grazie a voi grazie Guido è stato bellissimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti